Una bambina camminava silenziosa su un verde praticello. Era tutta silenziosa perché non voleva svegliare gli animalitti del bosco. Allora era una bambina buona e gentile che non vuole disturbare nessuno. No, in realtà era una bambina che aveva paura di tutto. Per quello non volevo far rumore, per non essere trovata da nessuno. Oh, hai sentito un piccolo rumore? Sicuramente c'è un mostro che mi vuole mangiare. E subito si nascondeva dietro le rocce, poi sbucava, guardandosi intorno e diceva. E questo rumore che cos'è? Oh, speriamo che non sia una lumaca viscida e gigante che voglia schiacciarmi? Oh, un verme strizzabambine che voglia strizzarmi? Oh, un castoro denti lunghi sgranocchia piccoletti che voglia sgranucchiarmi? Oh! Ma con tutta questa paura la bambina restava sempre sola. Non riusciva ad avere un amico o un'amica. Qualcuno con cui giocare aveva paura di tutto e di tutti. Che cos'è? Lo sento. Sta arrivando davvero, davvero qualcuno. Questa volta la bambina non si sbagliava. Stava arrivando qualcuno. Verde, alto, altissimo, grande, grosso, grossissimo, con due grandi occhi e una grande bocca. Oh, oh, un drago. Oh no, non è possibile. Sono proprio sfortunata. Un drago. Non potevo incontrare una formichina o una pulce. No, un drago. Un drago gigantesco. La bambina si nascose di nuovo dietro le rocce. Dai, ti ho vista. Non serve nasconderti. Ti ho vista benissimo. Sei nascosto dietro quelle rocce. Dai, 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 dai. Vieni fuori. Non voglio farti del male. Dai, parliamo un poco. Sono così solo. Non trovo mai nessuno che voglia chiacchierare con me. Ma, ma, ma tu sei un drago e sicuramente sputi il fuoco. Oh, sì, sì, è vero. Sono un drago. E sputo il fuoco. Guarda, guarda che bravo che sono. E il drago sputa una grande fiammata di fuoco rosso. Rosso. Oh, 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 che paura. Eh, guarda, disse il drago sputando un'altra fiammata. Oh, oh, che, che paura, paura. Ma dai, ma sto scherzando. Io sono un drago buono e non potrei far del male a nessuno. Sputo il fuoco solo perché mi diverte. Dai, 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 dai. Diventiamo amici. No, 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 no. Ho paura. E poi sei troppo grande. Se giocassimo insieme probabilmente mi faresti male. Se giocassimo ad acchiapparello con quelle zampone mi strizzeresti. Se giocassimo a chi è il più veloce con quei piedoni mi schiacceresti. Se giocassimo a salta di qua e salta di là con quel sederone mi spiaccicheresti. No, noi non possiamo diventare amici, disse la bambina. Ecco, ecco, lo sapevo. Anche tu non vuoi giocare con me perché sono troppo grosso. Ma non è colpa mia. È stata una vecchia stregaccia che mi ha fatto un incantesimo. Mi ha fatto diventare un grosso drago perché volevo usarmi per spaventare tutti. Ma a me non piace spaventare nessuno. Per questo sono scappato. Allora la bambina iniziò ad avvicinarsi piano piano al grande drago. Davvero? Vuoi dire che tu sei uno di quelli che se trovi la parola magica si trasformano? Cioè, tipo che se io dico la parola magica, per esempio, abrababbola, tu ti trasformi? Magari in un bel principe? Oh, forte, forte, fortissimo. Allora voglio provare, voglio provare, voglio provare a trasformarti. Oh, sì, sì, sì. Dai, dai, prova, prova. Mi piacerebbe tanto tornare quello che ero prima. Stavo molto meglio. Mi sentivo a mio agio, rispose il drago. Va bene. Adesso penso alla parola magica. Se l'ha inventata una stregaccia, la parola sarà sicuramente brutta. Per esempio, potrebbe essere... Potrebbe essere... Zuzzo, zuzzo, zuzza, 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 zuzza. Il drago non cambiò, ma iniziò a ridere, a ridere. Oh, che parola assurda! Zuzza, 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 sei proprio divertente. Dai, 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 non farlo spirituoso. Proviamo con un'altra parola brutta, allora. Aspetta, penso, penso, ma certo. Porchetta, forchetta. E ancora una volta, il drago non si trasformò, ma iniziò a saltellare, divertito. Porchetta, forchetta, questo non l'ho mai sentita. Sei proprio divertente. Mi fai morire del ridere. Uffa, smettila di ridere. Questa è una cosa seria. Voglio trovare la parola giusta per trasformarti. Voglio proprio vedere come il principe verrà fuori. Sì, 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 dai, prova, 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 sei proprio simpatica. Allora la bambina si fermò e iniziò a concentrarsi. Si concentrò così tanto che sembrava quasi che dovesse esplodere da un momento all'altro. Ci sono. La parola magica è la parola brutta, più brutta, più brutta di tutte. La parola magica è brutta, 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 bruttissima, ed è scafandra d'odorettile. Il drago non stava più nella pelle. Non riuscivo a fermarsi da tanto gli veniva da ridere. No, 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 no. Questa è proprio. Non l'avevo mai sentita. Scafandra d'odorettile. Ma sei davvero incredibile. Ma come ti vengono in mente? Allora la bambina stette in silenzio per un po' e si intristì. E va bene, non la trovo, lo ammetto. Peccato, perché mi sarebbe piaciuto avere un nuovo amico. Dai, ma non essere triste. Se vuoi possiamo essere amici lo stesso. No, te l'ho detto. Sei troppo grosso e pericoloso per me. È meglio se vai via. Vabbè, ma prima di andarmene mi diresti almeno come, 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 come ti chiami? Chiese il drago. Anche lui un poco triste di non aver trovata un'amica. Certo, te lo dico. Io mi chiamo Bimba. Bimba. Semplicemente Bimba. E appena ebbe pronunciato tre volte il suo nome. Bimba. 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 Accade qualcosa di incredibile. Il drago cominciò a trasformarsi. Ehi, ma, 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 che succede? Che succede? Mi sto trasformando. Eh sì, sì, ti stai trasformando. Ma allora era questa la parola che poteva spezzare l'incantesimo. Bimba, 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 caspita. Era proprio facile. Sì, la parola. Era la parola più semplice del mondo. E il drago si era trasformato in quello che era prima di incontrare la strega. Si era trasformato, no, non in un principe, ma in un piccolo draghetto. Un draghetto piccolo come la bimba. E adesso sì che potevano diventare amici e giocare ad acchiapparello o a chi è più veloce o a salta di qua, salta di là, senza farsi del male e ridendo e scherzando. E così, bimba e draghetto divennero amici per sempre.